Grazie a tutti. I cambiamenti continui, l'instabilità, la fragilità produce. Instabilità, fragilità, tempi corti, distacchi che non sono adatti all'età di certi bambini. Quindi è molto importante il nido. Quel nido di Alba, dove io ho avuto l'occasione di entrare e partecipare ad alcune manifestazioni e dare e scambiare informazioni e consigli, mi ha molto colpito perché è una bellissima costruzione. C'è un'equipe medico-psicopedagogica. I bambini vengono assistiti dalla primissima età, come dovrebbe essere per ogni donna che lavora, per ogni famiglia che ha delle donne che oltre ad avere dei figli lavorano. E poi, perché è eccezionale, consultarsi sia per formare costantemente il personale assunto a tempo indeterminato, sia per scambiare con i genitori delle informazioni e dare consigli. C'è la sala dell'allattamento, proprio gradualmente, sei mesi, sette mesi, otto mesi, dieci mesi, perché i primi mesi dell'infanzia di ogni bambino sono decisivi, sono fondamentali. È fondamentale la vita dei bambini dal grembo, a partire dalla prima esperienza di pace e contenimento, così dovrebbe essere. Se una donna è felice, fino al momento in cui si nasce, si comincia a percorrere, avendo già, come memoria della specie nel corpo, l'idea che se non verremo assistiti, moriremo. Perché i cuccioli dell'uomo hanno bisogno di un'assistenza totale e completa, hanno bisogno proprio di essere, diciamo, accolti, di essere affettuosamente tenuti, di essere sfamati. Hanno come principio fondamentale la vita come dipendenza. Da questa dipendenza per tutto il tempo tenteranno, crescendo, di emanciparsi, con tempi lunghissimi. Ma questo sarà oggetto delle nostre riflessioni quando parleremo della vita prenatale, del parto, dei primi mesi di vita, dei primi anni di vita, della preadolescenza, dell'adolescenza e finalmente della giovinezza in cui, beh, cerchiamo di far emancipare, anche se adesso si emancipano molto poco. Ci sono questi ragazzi che escono da casa, che hanno 30 anni e sono quelli che stanno dentro casa ancora perché la casa è un posto dove puoi essere accolto, stare con i genitori separati o insieme e fare da collante ed essere accolti e non crescere. Perché il sogno di tutti, di tutti i bambini veramente, è essere Peter Pan, non crescere mai. Ho più volte lavorando, ho sentito i bambini, oltre per la mia esperienza personale, ho sentito tante volte dire ai bambini non voglio crescere. Ho sentito dire, e anche a certi bambini che pensavano divento adulto, faccio questo, faccio quell'altro, però poi il problema era fermare l'infanzia. Il tema fondamentale della vita di ciascun essere umano è fermare l'infanzia. Se la fermi bene, perché hai giocato, perché hai avuto abbracci, amore, perché sei stato ascoltato, perché hai avuto esempi, ce la fai a diventare grande. Se no non ce la fai. Rimani un uomo o una donna adulti che però continuano a giocare infantilmente con la vita e purtroppo, ahimè, tante volte questi signori sono persone che guidano gli stati, alimentano i governi. E allora creare la pace, lavorare per la pace, partendo dal primo mattoncino, dalla prima agenzia educativa, che è la famiglia, è quello che noi sostanzialmente e fondamentalmente vogliamo fare.